Ragazzi 9 agosto abbiamo il capo dei capi Allen Ma come fai che io non riesco porca Eva? Ah ma è il guadino, quel guadino là c'ha tutte le faccette, eh sì caro C'è la mano giusta? Io stamattina li ho buttati una fatica della miseria Una è morta stare qua così, eh? A tenere la retta Voglio riposarti un po' Qualche volta lo facciamo uno in umido Ce n'è uno che sarà quattro cinchettino E quello vuoi riprendere? Eh? Eccolo qua Mettilo qua che lo voglio filmare Vado andare qua Ok Lì c'è neanche dal guadino No! Dai! Ancora? Vai! Più per i gatti per i pescatori una mangiata e meno per voi Giusto? Vado Non c'è neanche il fiatone C'è il fiatone? No Ma che belli che sono Ok Ok Prese giusto Dai poverini Eh! Questo è ritornato dentro Niente, quello lì lo metto un dopo Eh? Lo mettiamo dove vai? E dove vai? Ancora ne vuoi? Eh certo, eh I pescatori devono rimanere contenti Guardate che bello Ciao a tutti ragazzi Che faticaccia Ciao Ale Dove sei? Saluta Saluta Marco Ciao Marco Ci vediamo Tra poco Ciao a tutti